amici sportivi amici fanta allenatori buongiorno ben trovati da prima di partire con il video vi ricordo l'importanza fondamentale di utilizzare fanta lab qui sotto al video trovate il link per utilizzarla con i codici sconto veterano potete fare un sacco di cose fissare gli obiettivi cambiare i singoli prezzi dei giocatori per la vostra asta mettere le note cambiare tutti gli indici di sicurezza che trovate a destra vedere light map e le statistiche del giocatore singolo giocatore per singolo giocatore con l'andamento anche durante l'asta e poi fare l'asta live con tutti i vostri amici quindi veramente fondamentale importanza un grazie di cuore a fanta lab che ha dato questo strumento indispensabile per i fan trainatori partiamo col video ed eccoci eccoci qui allora partiamo col video vi ricordo che su fanta lab.it qui sotto trovate il link per accedere a fanta lab trovate già la mia strategia caricata stanotte ho fatto la nottata per metterci mano completamente completamente praticamente completa qualche piccolo ritocco andrà fatto ancora nel durante perché calci mercato sarà aperto però voi scaricate la abbonatevi a prea sulla funzione premio di fanta la punto it questo trovate link anche anche codice sconto veterano quindi un grazie di cuore a chi si abbonerà anche qui oltre a canale di veterano di youtube quindi veramente un grazie di cuore per il supporto costante analizziamo oggi il listone di fantacalcio.it listone che ha dato qualche sorpresa interessante vedi qua rascedi a centrocampo e zanimacchi attaccante noi partiamo con delle novità che sono arrivate da fantacalcio.it interessanti che vanno un po nel solco di quello che ha fatto il canale di veterano di magic goal che riguarda il rating ci hanno inserito una colonna in più che si a fanta valore di mercato che è un prezzo su base 1000 per capire quanto sarebbero disposto a pagare gli esperti di fantacalcio.it quel determinato giocatore quindi non c'è un algoritmo ma c'è un gruppo di esperti che risponde ad esempio nel caso di magnana sarebbero disposti a pagare 81 su 1000 quindi l'8 e 1 per cento e quindi abbiamo un'indicazione di massima su quello che potrebbe essere il prezzo di acquisto cosa ho fatto ho suddiviso i giocatori simulando una lega 10 quindi blocchi di 10 in base al valore di fanta valore di mercato quindi per la porta i primi dieci sono magnan scesni andano vicino di patrissio meret musso maximiliano gollini cranio e consigli poco da dire in questo caso sulla porta e le gerarchie sono abbastanza definite vi dico attenzione solamente al pacchetto inter perché andano vicino e onana vanno un prezzo abbastanza alto attenzione anche alla porta napoli perché meret non è sicurissimo del posto visto che a livello di calcio mercato si sta muovendo qualcosina quindi sulla porta massima attenzione ultimo consiglio sulla porta vi dico attenzione prendete se potete il pacchetto di una squadra top perché vi garantisce sicurezza modificatore difesa e anche porta in battuta ma soprattutto vi evita diversi diversi malus passando la difesa i giocatori più ambiti e in questo caso quadrado è uscito dai difensori passa centrocampista sono il fatto che danfriese e gossens sono gli stati difensori quindi i primi dieci sono hernandez danfriese danfriese gossens bremer schlina di lorenzo dodò bastoni biraghi e tomori attenzione perché dodò è già quotato altissimo e sono molto contento di questa quotazione secondo i soldi interessanti mi avviso c'è singo e c'è faraoni così come rachmani in terzo slot un po più basso comincia a esserci un po di latenza un buon colpo potrebbe essere lazari della lazio che è quotato 10 come valore e come fanta valore di mercato è quotato 20 e quindi un prezzo discreto un 2 per cento si può spendere su di lui come sempre i prezzi buoni ci sono anche in difesa quindi attenzione a giocatori come occodi anche in concomitanza della partenza di palomino per doping quindi di fatto potrebbe stare assenti due anni palomino e quindi spazio occodi che potrebbe essere una bellissima scommessa a prezzo base anche uno per quanto riguarda invece per centrocampo riparto nevralgico come detto informazioni a caldo sono il fatto che quara scegli e sarai stato centrocampista mentre zanimacchia e sarai stato attaccante quindi brutte notizie sul giocatore della cremonese i primi 10 sono mirinkovic savage chiesa pellegrini pogba marinoschi paserici barack zaccagni barella e c'è la noglu non sono molto d'accordo su questa suddivisione perché ad esempio marinoschi l'avrà messo un po più basso attenzione perché chiesa è quotato 120 nonostante l'infortunio quindi 12 per cento anche pogba l'infortunio rischia di tenerlo abbastanza fuori dal campo come detto secondo svolta invece interessante c'è sicuramente quara sceglia quotato come fanta valori di mercato 63 quindi solamente un 63 per cento direi molto molto bene per l'interessante così come bayrami è al ventesimo posto terzo sotto interessante c'è mkhitaryan un po più in basso c'è strefezza che rientra sempre nel terzo slot e quarti slot interessanti ve ne sono abbastanza pochi metterei solamente lukic del torino quinto slot molto interessante c'è ederson dell'atalanta e poi via tutti gli altri fino ad arrivare all'ottavo slot dove comincia a esserci un po meno scelta mi piace molto samaric mi piace molto adri c'è anche radonic che abbastanza basso e poi in più sotto fuori dagli slot ci sono giocatori come zaleschi bohine valotti milanese ferguson ricci insomma c'è tanto alla banca e lo stesso basic sono sicuramente giocatori molto molto interessanti chiudiamo col reparto offensivo con l'attacco dove di fatto che qua chiudendo con sei slot abbiamo diverse indicazioni da darci da darvi a tutti noi stesso slot interessante c'è cancellieri della lazio e c'è lo stesso zanimacchia quinto slot molto interessante nel viso c'è satriano che quadrato 28 per cento quarto slot c'è sicuramente alvarez del sassuolo molto interessante quotato 36 per cento quindi abbastanza basso e al momento è lui l'attaccante principale del sassuolo terzo slot vi metto orighi quotato 59 quindi 59 per cento che secondo me potrà avere grande slancio in casa rosso nera secondo i slot ve ne sono molti c'è di maria che secondo me è il giocatore più ambito e costa 11 4 per cento nonostante al reparto offensivo il reparto d'attacco jovic quotato 100 quindi solamente un 10 per cento il reparto dei primi dieci d'attacco è molto intrigante c'è di bala leao zapata berardi martinez e l'autorio osimena bram lukaku vlaovic immobile sono d'accordo con l'ordine un po meno con i prezzi visto che immobile quotato 39 per cento e di bala il 20 per cento quindi prezzo veramente troppo alti mi avviso però comunque se i nostri versati di spendono facciamo di spendere fuori lista diciamo dei primi sei ci sono c'è poca roba c'è praticamente ghiard del mozza buon aiuto cremonese poco altro quindi insomma sul reparto offensivo dovremmo essere molto molto furbi e ambiziosi un abbraccio a tutti voi abbonati al canale buon fantagaccio a tutti ciao ragazzi a prestissimo da vediamo